Mano a mano che passano i giorni e si succedono i provvedimenti del governo appare sempre più chiaro che ormai l'anno scolastico è compromesso. Il decreto del Presidente Conte in vigore in questo momento prevede la chiusura delle scuole fino al 3 aprile, ma già da diversi giorni al Ministero stanno lavorando ad un piano B per garantire che l'anno scolastico si concluda in modo regolare. Difficile capire come questo potrà avvenire anche se già da settimane si parla di promozione assicurata per tutti gli alunni oppure di conclusione delle lezioni posticipata di 10-15 giorni con esami di Stato a luglio. Il segretario nazionale della Will Scuola Pinoturi aveva persino parlato di esami a settembre. La nostra testata ha anche provato a chiedere l'opinione ai propri lettori. Due settimane fa alla domanda cosa preferisci fra la promozione assicurata per tutti e le lezioni protratte fino al 30 giugno due lettori su tre optavano per la seconda possibilità. Ma in questi ultimi giorni le percentuali delle risposte si sono perfettamente capovolte. È probabile che dopo 15 giorni di didattica a distanza i docenti ritengano che non sia necessario prolungare più di tanto le lezioni. E a proposito della didattica a distanza va anche rilevato che poco meno del 30% dei nostri lettori si dice piuttosto soddisfatto dell'esperienza contro il 70% che si dichiara insoddisfatto. Questa settimana sarà certamente cruciale per capire cosa potrebbe succedere nell'immediato futuro anche se le misure molto drastiche contenute nell'ultimo decreto del presidente Conte saranno comunque in vigore fino alla metà di aprile. Ma come si potrà garantire la promozione a tutti? Una strada possibile a questo punto appare quella di adottare un provvedimento di legge, non un semplice decreto ministeriale, che preveda che a settembre tutti gli alunni vengano iscritti d'ufficio alla classe successiva a quella frequentata nell'anno in corso. Resta il problema dell'esame di Stato che però potrebbe essere svolto con modalità, come dire, leggera, un solo scritto e una prova orale semplificata. Si tratta però, è bene sottolinearlo, solamente di ipotesi sulle quali per il momento dal ministero non trapela assolutamente nulla. C'è da augurarsi che la ministra Azzolina riesca al più presto a fornire alle scuole, ai docenti, agli studenti i chiarimenti del caso, in modo da dare un po' di serenità a tutti per quanto è possibile in questo difficilissimo momento. Su questo tema ovviamente continueremo a tenervi informati, quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul portale www.tecnicadellascuola.it, continuate quindi anche a scriverci, a mandarci i vostri suggerimenti, a raccontarci le vostre esperienze, noi ne daremo conto come sempre. Grazie.